Ok ragazzi, vamonos, vamonos, buonasera a tutti, buonasera ragazzuoli, ciao a tutti. Allora, come sempre, io ho problemi di ogni genere e tipo, ormai lo sapete, quindi ditemi se questo cambio di cuffie è riuscito almeno a risolvere il problema del fritz, del microfono, fatemelo sapere, ditemelo che poi oggi dobbiamo risolvere un sacco di problemi in realtà in corso d'opera, di altra natura e tipologia, ad esempio un'altra cosa, però non vi vedo commentare, quindi datemi un feedback, vi prego fanciulli, ditemelo se mi vedete, mi sentite, se ci sono problemi, se il microfono gratta o non gratta e soprattutto un'altra cosa che ora sì, ora sì che cosa? Stern, tutto ok, quindi non gratta con questo microfono, con queste cuffie. Oh, ma allora questa è un'ottima, ottima, fantastica, meravigliosa notizia perché altrimenti era una di quelle volte buone che bepiavo, me alzavo e se rivedevamo, se rivedevamo poi. Altra domandina, giusto prima di cominciare, mentre magari arrivate, innanzitutto come siete arrivati alla live? Ci siete arrivati perché è arrivata la notifica da YouTube? Ci siete arrivati per la storia su Instagram, per la storia su Telegram? Fatemelo sapere perché devo prendere consapevolezza dello stato di salute attuale della pagina e adesso arriviamo anche perché notifica, notifica YouTube, suppongo, notifica YouTube, ok, allora sembra procedere tutto regolarmente, grandi ragazzi, ok, da Telegram, comunque la notifica di YouTube vi è arrivata questa e questa, è un'altra di quelle cose che, oh, meno male, poi avevo letto tra l'altro nei commenti, mentre mi aspettavo, io a voi e voi a me, che la gente diceva mi raccomando la vena gonfia, oggi vi prometto che un pochino di vena gonfia ci sarà, perché ho fatto tutte queste premesse. Allora, per il semplice fatto che io avevo annunciato anche il video di ieri nella scorsa live, sono uscita ieri con un video che trattava delle questioni tra Iran e Israele, ne trattavo da un punto di vista storico e trattavo anche tutte quelle che sono state, diciamo, le conseguenze in questi rapporti da quando c'è Bibi Netanyahu, quindi lontanissimi, diciamo, il piano Olmert e la figura di Olmert che molto si era impegnato in realtà per distendere un pochino i rapporti, ma lì i rapporti saltarono per colpa di Abu Mazen, le distensioni tra i rapporti e insomma avevo annunciato che questo video insomma sarebbe stato sicuramente pesante, sicuramente carico di nomi, carico di roba, carico di date e chiaramente diciamo che mi aspettavo un po' quello che effettivamente poi è successo, perché voi lo sapete io non sono solita diciamo fare il piagnisteo quando intercorre uno shadow ban o un oscuramento dei contenuti perché ahimè grazie a chi si è abbonato adesso e grazie a Giovanni Marillo per la donazione, grazie mille, benvenuti e grazie del supporto come sempre. Dicevo io tendo a non fare mai diciamo troppo la vittima quando succedono cose di questo genere per il semplice fatto che io so perfettamente in che ginepraio mi vado a invischiare quando tratto di determinati argomenti, ma in questo caso posso dire che non si tratta di una delle solite volte, cioè non è una volta canonica, una di quelle volte in cui vabbè lo sai, te sei messa a di quello che te sei messa a di quindi non poteva chiaramente andare che diversamente, ma in realtà il video almeno quello di ieri io dubito fortemente che abbia avuto diciamo la visibilità come posso dire a copertura piena, chi chiaramente adesso andrà a guardare il numero delle interazioni mi dirà ma che cazzo te lamenti, sta andando comunque bene, sì ma vi assicuro che dall'interno siamo sotto, ma ben sotto, ma ben sotto gli standard normali. Tra l'altro ho provato a fare anche la controprova con altri tipi di piattaforme, quindi mi sono riversata anche su TikTok che è una piattaforma che io non curo particolarmente, dove però rilancio il materiale e siccome su TikTok è letteralmente una di quelle piattaforme dove basta mettersi davanti a una fotocamera, fare una scoreggia e già hai centomila visualizzazioni se non purete più visti i tempi perché chiaramente i contenuti da un certo tipo hanno sempre un vantaggio e non di poco, io in occasione di questo piccolissimo estratto che avevo messo nel video faccio tremila visualizzazioni, quindi mi rendo conto che l'argomento è oscurato. Allora so anche perfettamente che è chiaro, io in quel video l'ho chiuso, quindi non posso fare diciamo troppo appello a questo video perché io questo video l'ho chiuso dicendo delle cose abbastanza forti. L'ho chiuso tra l'altro, non posso fare appello a questo video perché ho trattato in questo video delle questioni anche un pochino particolari, quindi non posso fare, prendere come parametro un video in cui io parlo dei rapporti tra Bibi Netanyahu e Hamas, dove io cerco di demolire la retorica in cui si parla di lotta al terrorismo facendo tra l'altro notare che in realtà è da parecchio tempo che Bibi Netanyahu chiude tutti e quanti i due occhi, più il naso, più le orecchie, più tutto riguardo i fondi che arrivano dal Qatar, che si tratta quindi di milioni di dollari che vanno a finire direttamente nelle tasche di Hamas e lui non fa niente. Non posso fare appello a un video in cui io dico che Bibi Netanyahu in una riunione a Likud si era tra l'altro anche vantato un po' del fatto di aiutare Hamas in qualche modo perché era l'unico modo per poter in qualche modo incidere e distruggere la forza palestinese e una delle strategie che erano in mano a Netanyahu per dividere i palestinesi di Gaza da quelli della Giudea e quelli della Samaria. Quindi non posso sicuramente fare appello a una tipologia di video di questo tipo dove tra l'altro io poi parlo anche di come Netanyahu abbia cercato da quando c'è un ingaggio con l'Iran, almeno da quando nel 2012 si presentava al congresso delle Nazioni Unite con il cartellone con la bomba disegnata portando dati che non si sa da dove prendeva per annunciare il fatto che l'Iran si stava consolidando come potenza atomica per ribadirlo poi anche successivamente quando verranno fatti poi gli accordi con l'Iran appunto per quanto riguarda il nucleare per asserire che l'Iran stesse disattendendo a quegli accordi e dimostrando che lui aveva 55 mila documenti che gli erano stati forniti dalla sua intelligence tutti rigorosamente senza data, una roba che assomiglia molto alla provetta di antrace di Colin Powell. Allora dicevo, quindi chiaramente io non posso fare appello ad un video del genere per parlare di notizie che vengono come posso dire chiuse con i robinetti, però mi sono anche accorta e chiaramente vi inviterei nel caso non l'avesse visto, nel caso non vi è arrivata una notifica, nel caso non sappiate nemmeno che io ho fatto questo video magari ad andarlo a riprendere, ad aiutarlo un pochino nella crescita. Non posso fare appello a quello per parlare di notizie che vengono abilmente come posso dire silenziate o che vengono appunto chiusi i rubinetti di distribuzione su determinate notizie. Se non fosse che però questa è la condizione in cui diverte la pagina da praticamente una settimana intera per qualunque altro argomento che tratti chiaramente del grande tabù che tutti ci coglie in questo periodo che appunto sono appunto le tematiche di guerra. Già nell'altra live avevo notato come la cosa era stato depotenziato il video quando parlai degli attacchi alla centrale nucleare di Zaporice e di come la stampa stava cercando in qualche modo di raccontare qualcosa di un po' smostrato rispetto alla realtà ma anche qui andatevi a riprendere l'altra live sempre perché così aiutate un pochino il canale a uscire da questo stadio comatoso ma in realtà ho notato che non è nemmeno una condizione solo mia è una condizione di tutti quelli che chiaramente hanno in questi anni investito il loro tempo, le loro energie nel parlare e nel cercare di rendere le persone un pochino più partecipi a tematiche importanti come quelle della guerra appunto. E mi sto rendendo conto che invece sparisce dalle prime pagine di tutti i giornali, sparisce in generale anche dalle conversazioni televisive. È inutile che venite a dirmi eh ma il TG5 ieri non ha parlato. Ci mancherebbe pure che non dessero la notizia streaming sita perché a me sembra che soprattutto nel mondo di internet che mettemoselo in testa una volta per tutte ha completamente in qualche modo scardinato il metodo di fare informazione tant'è che ci si riversano tutti dentro internet dalle grandi testate fino ai politici quindi dobbiamo prenderlo come mezzo di informazione e non come mezzo di mero intrattenimento. Comunque sparisce praticamente dappertutto la tematica di guerra non ci sono contenuti oggi siete stati tutto il tempo a parlare di cosiete perché immagino che anche qualcuno qui in mezzo ci sia parliamoci chiaro a parlare a Ferragni dei Fedez dell'intervista dei Fedez perché ci sono chiaramente notizie che hanno più margine più interesse più appeal ed altre che invece si deve tendere a tenere un pochino sotto e queste tematiche qua sono esattamente queste nel frattempo che però noi viviamo in questa bolla abilmente costruita dalla politica attualmente che è molto concentrata sul fronte europeo e che quindi non si può permettere il lusso di tirar fuori questioni problemate lo so chi se ne frega dei Fedez ma io sono d'accordo con te Giovanna ma il problema è che era la notizia più in algoritmo e a voglia dire chi se ne frega di Fedez vi vorrei ricordare che sulla sul Pandoro Gate vennero fatti la quantità di circa 10.000 articoli mentre della striscia di Gaza ma la pena 3-4.000 giusto per fare per fare un bilancio quindi a voglia dire chi se ne frega ma purtroppo questo è lo stadio in cui versiamo quindi vi volevo dire che mentre c'è una bolla intorno a noi insomma che ci rende praticamente così estrapolati dal mondo che ci circonda poi capisco anche le belle giornate il fatto che sicuramente ci avrete voglia di staccare la testa io capisco perfettamente tutto ma ci darei a confermarvi il fatto che no il mondo intorno a noi a quanto pare non si ferma non si ferma perché hai le mie cuffie di Warzone? Peppe è collegato perché così non gratta e vedi che il problema erano le cuffie Alexa vai ti sto rispondendo Peppe perché così non gracchia il microfono comunque mentre noi viviamo in questa bolla il mondo intorno a noi va avanti e in realtà in questa settimana in particolare negli ultimi giorni ci sono tre notizie di cui io non ho sentito parlare veramente nessuno ma veramente nessuno se non quattro cristi in croce praticamente che mi andava invece di di rivolgere anche a voi anche per sapere se effettivamente pure voi avete sentito qualcosa potete confermare la mia percezione mi potete pure dire Paola sei una matta in realtà ne stanno parlando tutti e sei solo te che stai nella bolla ma io ci tengo proprio diciamo a rivolgervele queste notizie grazie da Dei per la donazione grazie mille noi che la pensiamo diversamente ma non è tanto questione di pensiero unico Dario ti assicuro che non è una questione di pensiero unico perché questo pensiero unico è unico unico cioè come posso dire è una cosa talmente tanto condivisa da tutti quanti che sa un po' di premeditazione politica adesso ma tanto tranquilli che tranquilli che ci arriviamo sarà proprio la vena al collo di chiusura questa questa roba qua allora come dicevo ci sono in realtà tre notizie proprio tre che con voi vorrei vorrei condividere allora la prima che non so se sapete che a quanto vale Israele ha una data ufficiale per la sua offensiva su Rafa cominciate a dirmi se ne avete almeno sentito qualcosa se avete letto qualcosa al riguardo se sapete di che cosa sto parlando se avete mai letto da qualche parte che Israele ha la sua data per l'offensiva su Rafa Duracell sì io sono scappato alle cano e vabbè ok no niente purtroppo no ci sono di nuovo grazie Hattor per la donazione stavo dicendo sì zero io non lo sapevo sì non l'ha detta sì qualcuno no non ho letto nulla insomma diciamo che qualcuno che ha più magari sicuramente non nelle testate nostrane perché non c'era praticamente ma soprattutto nelle testate estere quindi qualcuno che sa destreggiarsi in questo pazzo pazzo mondo dell'informazione sicuramente l'ha sentita io l'ho sentita a radio 24 bene sì credo di averlo sentito da te no CB non da me perché ne sto parlando adesso e non l'ho ancora trattata questa cosa no non ho sentito niente grazie Sonia della donazione comunque la notizia è che Israele c'ha una sua data allora come è avvenuto innanzitutto bisogna dire che effettivamente riconoscere a Netanyahu che dei tanti difetti che c'ha no è sicuramente uno di parola perché sta controffensiva sta controffensiva se senti a me sta offensiva su Rafa appanto perché poi è collegata anche alla controffensiva poi ci arriviamo sta offensiva su Rafa l'avevano annunciata poi erano tornati un po' sui loro passi poi l'avevano riannunciata poi l'avevano preventivata hanno detto che si sarebbe fatta si sarebbe fatta sicuramente in effetti come vedete è di parola in effetti sta controffensiva se farà su Rafa mi viene sempre controffensiva perché già sto qua a testa la notizia dopo comunque vabbè questa offensiva se fa ormai ci hanno talmente tanto fatto il lavaggio del cervello pure con sta roba che vedete viene quasi automatico comunque questa offensiva a Rafa si farà Netanyahu mantiene la parola di tanti difetti che c'ha è uno assolutamente de parola l'aveva detto non voleva essere fermato e tra l'altro non sarà fermato la cosa che ha sconvolto un po' è che insomma non abbia detto espressamente la data hanno detto che hanno una loro data ma che non hanno intenzione di condividerla e in effetti qualcuno un po' stramazzato no perché dice ma come noi che siamo abituati da anni a sentire appunto se controffensive come quella ucraina annunciate con la trombetta ma questo non ci dice esattamente il giorno la data l'orario in cui succederà questo quindi la gente è rimasta è rimasta un po' spiazzata comunque l'ha dichiarato praticamente lunedì quindi stiamo parlando dell'otto aprile esattamente due giorni fa e ha annunciato quindi che sono pronti grazie Lina per la donazione grazie Soyuz per la per la donazione grazie Diana per per il complimento grazie a voi di essere qui quindi si farà senza se senza ma senza ulteriori posticipazioni si farà ora per quale motivo questa offensiva su Rafa sembra essere diciamo anche attesa con una certa pressione interna perché lui annuncia a Bibi Netanyahu che questa offensiva si farà praticamente all'indomani da quando aveva ritirato le truppe voi avrete seguito la scorsa live io vi avevo detto anche domenica domenica è avvenuto il tutto che sono state ritirate le truppe è rimasto soltanto il battaglione NAL a sud di Gaza e le reazioni all'interno dell'entourage di governo di Bibi Netanyahu diciamo che non sono non si è presa proprio benissimo questo disimpegno delle truppe e l'abbandonare un unico battaglione in un mucchio di macerie. Grazie Francesco e grazie Donarici che ha regalato ben 10 abbonamenti vi adoro vi voglio bene grazie del supporto. Dico non ha presa bene il suo entourage di governo si lega molto anche a quello che io ho raccontato all'interno del video perché in questo video in cui parlavo dei rapporti tra Iran e Israele concentrandomi soprattutto sulla figura di Netanyahu come nemico della pace avevo già spiegato e questo ci tengo a precisarlo non perché me voglio salvare l'immagine di Netanyahu che è insalvabile non perché povero Netanyahu perché qui c'è sempre qualcuno che capisce cazzi per mazzi e quindi è opportuno ripeterlo 500 volte questo concetto. Netanyahu è un criminale ma in questo momento è anche veicolato da enormi pressioni. Netanyahu ha assoluto bisogno della guerra è l'unico modo affinché la sua testa politicamente parlando non crolli. Avevo già detto lo dico da un po' Netanyahu è un cadavere politico che cammina, Netanyahu è il principale responsabile di tutto quello che sta avvenendo a Gaza anche dell'ingaggio di un conflitto su scala molto più ampia e perché Netanyahu ha così tanto bisogno della guerra e ne abbiamo parlato anche nel video ha così tanto bisogno della guerra perché è schiacciato da diversi tipi di pressione. C'è la pressione delle sue accuse di corruzione a cui era seguita anche la riforma giudiziaria a Israele che aveva portato in piazza proteste inimmaginabili ancora prima dei fatti di Gaza quindi già la sua figura politica era assolutamente decadente. Si sta confrontando in questo momento anche con le pressioni da parte delle famiglie degli ostaggi perché Netanyahu disattende categoricamente ogni possibilità di accordi con Hamas riguardo al rilascio degli ostaggi che ricordiamo 134 sono ancora in mano di Hamas verrebbe pure da dirbi e che cazzo pretendi se tu gli annunci spassionatamente che anche se te fermi per un attimo per avere gli ostaggi indietro dopo li spianerai mi pare un po' normale che insomma anche dall'altra parte non ci sia proprio questa volontà diciamo di venire incontro alle tue esigenze soprattutto politiche perché tutto quello che sta facendo Netanyahu è in funzione del salvarsi il culo politicamente ma è molto molto pressato anche internamente dal suo governo perché anche non è alla minima intenzione chiariamoci perché è quello che è ma anche gli cadesse una tegola in testa domani mattina e decidesse di frenarsi o di ascoltare le parole degli Stati Uniti che l'hanno rimproverato eh l'hanno rimproverato quando ha detto che aveva la data eh hanno detto no vabbè noi te l'abbiamo detto non è che siamo proprio d'accordo si sono presi la briga di dirgli eh 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 però insomma almeno quello dice l'hanno fatto insomma pensa a che livelli stiamo comunque anche gli cadesse una tegola in testa domani mattina e decidesse di dare ascolto agli Stati Uniti o decidesse perché la il suo carattere è completamente cambiato dalla sera alla mattina di non procedere ulteriormente nel massacro dei palestinesi di Gaza non potrebbe comunque farlo non potrebbe comunque farlo perché è tenuto in scacco matto praticamente dai suoi stessi componenti di governo che sono tutte persone molto equilibrate tra tutti spicca ad esempio Ben Givir vi ricorderete benissimo chi è Ben Givir Ben Givir è uno che invoca quel tipetto quel baronetto quell'ord inglese che invoca la l'atomica su Gaza il giovedì e il venerdì cioè praticamente con quella presenza con quella stessa assidità con cui voi andate in palestra praticamente cioè lui lo fa così ogni tanto ma sì ma tiriamo una bella atomica su Gaza quindi tutti i tipetti molto equilibrati girano intorno a Netanyahu e Ben Givir gli ha fatto immediatamente sapere infatti quando c'era stato l'ordine di far sloggiare le truppe e lasciare solo il battaglione Nahl che se l'intenzione di Netanyahu era quella di perdere pressione cioè nel senso di allentare la pressione nei confronti della striscia di Gaza allora non gli si sarebbe diciamo accordato il mantenimento del suo ruolo siccome Netanyahu non c'è niente che teme di più se non decadere appunto politicamente ha subito cercato di contrattare con l'offensiva su Rafa ora a Rafa l'abbiamo parlato grazie Pasquale della donazione grazie mille ragazzi allora sì le 40.000 tende esattamente Tatiana perché anche su queste 40.000 tende che Israele stava preparando per fare evacuare i profughi c'era un po' di incertezza fino a qualche giorno fa cioè non si sapeva bene fino a che punto effettivamente fosse una notizia effettiva lo riportavano le testate ma usavano sempre dei toni per mantenersi quel margine di distanza che nel caso non fosse stata una notizia vera si sarebbero subito sganciati no invece queste 40.000 tende a quanto pare erano una notizia effettiva perché l'offensiva su Rafa diciamo si preannuncia come imminente Blinken dice non sappiamo grazie Sazuken della donazione dice non sappiamo effettivamente quando ci sarà quindi non ha comunicato come abbiamo detto prima la data ma insomma tutto tutto è pronto ora al valico di Rafa ci sono un milione e 500.000 profughi circa chiaramente tutta gente che ha scappata dalle bombe di Israele cioè non è che quindi non è che stanno lì in villeggiatura e Netanyahu è assolutamente convinto che all'interno di questi di questi profughi ci siano ancora tracce di Hamas quindi lui è convinto che i terroristi di Hamas siano nascosti là dentro la sua offensiva come ha sempre detto dice prevede che questi possano scappare non si è capito ancora bene dove ma oltre questo c'è anche un atteggiamento ben specifico da parte di Netanyahu un atteggiamento che avevo sentito dire anche ad altri analisti ma che diciamo mi aveva sempre lasciato un po' perplessa perché non riuscivo a vedere benissimo il quadro però il valico di Rafa è anche un punto di snodo fondamentale per quanto riguarda la logistica degli aiuti umanitari e quindi dopo aver certosinamente ucciso sul campo più di 130 giornalisti in realtà qualcuno parla addirittura di più di 200 però l'estime del numero dei morti soprattutto in tempi di guerra è molto molto particolare molto particolare anche sul numero dei giornalisti chi dice un numero chi ne dice un altro evitiamo di fare il terno all'otto comunque più di 200 giornalisti diamo per buono più di 200 comunque se non erano più di 200 siamo intorno ai 130 140 quindi poco ci manca dopo aver certosinamente eliminato tutti quanti i giornalisti dopo aver proceduto con la messa al bando di emittenti che potevano mostrare al mondo i suoi errori no perché l'abbiamo parlato anche l'altra volta lui parla di errori sono sempre errori ve l'ho inserito grazie antono barbiari dell'adorazione ve l'ho inserito anche nel video giusto per farvi rendere conto di quanto la narrazione sia diventata assolutamente insopportabile il video in cui netaniao parla della lo strike aereo che è stato fatto sull'ONG world central kitchen quelli che avevano il logo grosso così sul tettuccio della macchina che non riesce proprio a non togliersi il sorrisino dalla bocca fa spallucce dice ma in tempi di guerra può succedere come se fosse capito che casomai si è tolto una pellicina da un dito un'unghia incarnita cioè lui ne parla così questo sorrisino in tempi di guerra sono cose che capitano dopo aver tra l'altro quindi silenziato tutti quelli che possono mostrare al mondo i suoi errori orrori errori dopo che ha insistito particolarmente per italia l'urba altra diciamo altra associazione in assoluta funzione umanitaria sta pensando bene di fare anche questa spianata di rafa che è un punto di snodo appunto fondamentale per per gli aiuti umanitari quindi chi ancora oggi continua a dirmi alla luce dei rapporti che Netanyahu ha avuto con Hamas alla luce del fatto che questi rapporti intrattenuti con Hamas o meglio questo non vedo non sento non parlo quando Hamas veniva finanziato dal Qatar in relazione alle spinte interne alle motivazioni politiche in relazione alle ideologie perché da sempre Netanyahu ha parlato del eliminare il popolo palestinese di eliminare la Palestina da sempre lui ha pensato di poter usare Hamas anche in funzione anti OLP quindi per scagliarla contro anche ad Abu Mazen e compagnia cantanti quindi in questa rete intricata di rapporti chi ancora oggi continua a dirmi che l'obiettivo di Netanyahu non sia quello di prendersi tutta la striscia e di eliminare i palestinesi della striscia di Gaza per me ad oggi continuo a dire delle merite cazzate delle merite cazzate ora mi rendo conto dici perché te bannano o te silenziano i video per questo motivo qua perché questa è la roba che io ho messo nel video dell'altra volta ma che non me ne frega niente continuo a pensare lo penso lo sostengo perché noi possiamo parlare fino a dopodomani di quanto intricata sia la rete di rapporti storici tra Israele e Palestina e l'abbiamo fatto possiamo parlare fino a dopodomani delle colpe reciproche che hanno sempre di più allontanato le due parti da qualunque tipo di accordo di pace e l'abbiamo fatto possiamo parlare della storia di Israele dal 47 ad oggi ma ad oggi da quello che sta accadendo da dopo il 7 ottobre quello che ha portato al 7 ottobre risulta essere quasi totalmente esclusivamente responsabilità politica distinguiamo le parole leggete bene rabbiale responsabilità politica di Bibi Netanyahu che si sta comportando come il nemico della pace assoluto quando ci sarà questa offensiva su Rafa tra l'altro Bibi indisturbato infermato e infermabile e va sicuro che anche se avesse detto la data con i manifesti l'orario e tutto quanto non l'avrebbe comunque fermato nessuno perché chiaramente noi adesso siamo troppo interessati ad altre questioni come ad esempio giustrarci le poltrone no quindi nessuno l'avrebbe comunque fermato Netanyahu infermabile ed infermato continua ad essere l'unico responsabile del di tutto quello che sta accadendo dal 7 ottobre con i suoi rapporti avuti con Hamas fino ad oggi ripeto quando adesso ci sarà questa offensiva su Rafa mi raccomando facciamo come con la guerra in Ucraina mettiamoci un po' di tempo prima di capire che la situazione su Gaza è un tornaconto politico di Netanyahu raccontiamocela per anni con una sonata completamente diversa continuiamo a confondere il diritto di Israele di esistere di essere difesa giustissimo con il diritto di Israele di compiere massacri indisturbata perché mi risulta che se sia parecchio trasformata questa situazione però mettiamoci un altro po' di anni aspettiamo un altro po' facciamo come con il conflitto in Ucraina dove chiunque dicesse guardate che è la situazione un po' più particolare guardate che non state contenendo conto della complessità di un sacco di cose guardate che non state contenendo conto dei giochini politici che vengono fatti sulla pelle dei popoli chiaramente venivamo etichettati e lo sapete ormai perché me lo tatuerò in fronte per filo budiniani quindi mi raccomando all'offensiva di Rafa facciamo finta che non sapevamo niente facciamo finta che non avevamo calcolato la pericolosità di Netanyahu in questo momento perché non di Israele non sarebbe corretto dire Israele diciamo Netanyahu e facciamo finta che andiamo tutti quanti dagli alberi della serie non sapevo non avevo potuto preventivare chissà come mai è potuto succedere esattamente come sul fronte ucraino mi raccomando eh non un pochino prima sempre abbondantemente dopo quando la gente è morta piuttosto che essere viva grazie Christian Bortulus grazie mille del sostegno scusate mi state prendendo in un momento in cui ho la vena la vena leggerissima si sta per gonfiare diciamola così si sta per gonfiare quindi mi raccomando famo esattamente come l'altra volta assisteremo poi ai giornalisti con i coccodrilli pronti subito immediati per cercare di giustificare l'ingiustificabile esattamente come tutti gli errori commessi fino a questo momento dall'uccisione di civili che sventolavano bandiere bianche proprio in segno di resa tranquillamente freddati sul colpo come ha mostrato più e più volte al Jazeera ehm gli strike aerei appunto sulle sulle ONG o come ai tempi qualcuno si ricorderà sicuramente quella sparatoria sulla calca dei palestinesi che erano lì per gli aiuti umanitari no dove subito i nostri coccodrilli cercarono coccodrilli giornalistici chiaramente cercarono di far passare che questi eh si erano uccisi l'uno con l'altro nella calca questi incivili palestinesi che ridotti alla sete e alla fame non c'hanno manco quella faccia tosta proprio di mettesi in fila ma di meteo e quindi quelli hanno dovuto necessariamente sparare poverini hanno sparato in aria talmente tanto in aria che hanno fatto eh cento morti e quasi settecento feriti ce lo ricorderemo è notizia di un pochino di mesi fa che chiaramente pure quella famo finta che ne avemo mai vista quindi perdiamoci un altro po' di tempo eh mi raccomando e questa era la prima quindi Rafa si fa purtroppo perdonatemi il gioco di parole hanno una data la data è imminente non hanno annunciato quando ma di sicuro non potremmo far finta di non averne mai saputo niente o non essere o non essere minimamente informati del tutto ora c'è poi una seconda notizia una seconda notizia che riguarda proprio il nostro prima mi ritornava in mente contro offensiva perché ecco perché riguarda il nostro eroe in felpa verde lo riguarda proprio da preciso chi se non lui del nostro caro volodmir zelensky grazie bumbu e benvenuto come neofita di pavol benvenuto sul canale grazie grazie mille allora riguarda invece questa seconda notizia il nostro prodero e grazie cristian per la per la donazione state buoni nei commenti non mi fate ride eh mettete asterischi casomai se volete fare della facile goliardia su una situazione che però è tutt'altro che goliardica ve lo assicuro perché la seconda notizia è anche questa datemi un feedback se l'avete sentita se ne avete sentito parlare se ne avete sentito parlare ai tg o nei salotti eccetera eccetera del fatto che ehm zelensky chiaramente voi saprete avrete notato sicuramente perché voi sì che state sul pezzo sono sicura che voi ci state per davvero sul pezzo il novanta per cento dell'opinione pubblica no ma chi segue canali come questo e non necessariamente perché dice le cose che dico io attenzione cioè ma canali che vogliono fare cercano di fare divulgazione il più possibile anche agli antipodi dal mio pensiero è tendenzialmente gente che si interessa di quello che gli succede attorno che magari poi si beve bibitoni di propaganda ma che almeno si interessa quindi avrete sicuramente visto che nell'ultimo state buoni nei commenti non mi fate ride che perdo il filo la questione qua è drammatica facciamo bene a ironizzarci sopra perché una sera una risata li seppellirà se diceva no quindi sì la satira è il miglior modo per far passare concetti pesantissimi in una maniera efficacissima quindi non mi fate ridere e non insultate nessuno che altrimenti vi devo bannare quindi mi raccomando non mostrate il fianco non prestate questa pagina a bersagli disegnati sulla schiena o sulla testa di chi vi sta parlando in questo momento perché qui è un attimo non solo perché per i contenuti che tratto ma anche perché se ingaggiate delle faide che non mi riguardano in questo momento minimamente di cui me ne frego altamente e cerchiamo di potrebbe ritorcersi in qualche modo contro il me perché ho visto che c'è un po di nervosismo da quelle parti nell'aria quindi evitiamo evitiamo perché veramente non me ne frega nulla allora dicevo riguarda il nostro eroe in calzamaglia no in felpa verde perché dicevo avrete sicuramente notato che zeleschi in questo momento è un po confuso c'ha delle crisi di personalità un giorno eh si decide a parlare di sconfitta una delle prime volte in assoluto in cui l'avevamo sentito parlare di di sconfitta sono due anni che parliamo di vittoria vittoria sicura vittoria l'ucraina vincerà le condizioni della vittoria eccetera eccetera con l'ucraina fino alla vittoria dicevamo noi quindi vittoria era lo slogan adesso invece dalle parole di zeleschi uscito fuori per la prima volta sconfitta non sa manco lui gli deve essere scappato probabilmente quindi oscilla tra queste fasi in cui dice ammette candidamente che mh l'ucraina non ha più tantissimo margine di sopravvivenza che servono altre armi servono aiuti che altrimenti si ci sarà l'ucraina proprio sul baratro c'è l'ucraina sul baratro della sconfitta dico io l'ucraina per me è già sconfitta da un bel po' o meglio più che sconfitta sul campo abbandonata a se stessa con questa parvenza di aiuti ma quello che dovevamo fare noi con l'ucraina lo abbiamo già fatto io lo continuo a dire per me è il sabotaggio del nostro il momento in cui i rapporti con l'ucraina si sono freddati da parte nostra perché quello era il nostro obiettivo interrompere la il filo il quel cordone umbilicale che regava l'europa attraverso il gas alla russia e ne sono convinta anche per tutti i risvolti che c'erano dietro al nostrim già ai tempi in cui angela merkel e sarkozy avevano deciso di intessere questi rapporti quindi mi sono convinta di questo che noi le nostre le i nostri giochi in ucraina l'abbiamo già conclusi da un bel po' continuiamo a rimanere attaccati perché altrimenti se già dal giorno dopo ci fossimo defilati sarebbe stato troppo 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 da faccia di bronzo parliamoci chiaro quindi oscilla tra queste cose che dice la sconfitta la sconfitta abbiamo bisogno di altri aiuti abbiamo bisogno di altre armi dobbiamo dislocare trecento almeno trecentomila uomini entro giugno impresa titanica se non impossibile a frase a fase in cui invece annuncia di avere piani pronti per la controffensiva lui dice che il piano ce l'ha pronto ma gli stati uniti devono finanziare non so se qualcuno ha mai visto il film la caduta datemi un feedback anche di questo altrimenti vi consiglio di andarlo a vedere non per il riferimento specifico ma per una scena specifica dove si dice appunto ha perso qualunque contatto con la realtà muove sulla mappa divisioni che non esistono più si diceva nel film e adesso uguale lui muove sulla mappa controffensive con soldati che non ha che non ha assolutamente è in totale delirio mistico a queste altalenà quindi da sconfitta a controffensiva ci ha messo adesso anche la parola pace non so che cosa sta succedendo a Zelensky veramente in uno stato confusionale perché la pace mi risulta che fosse stata messa al bando per legge che lui addirittura allontanasse membri di governo che avevano provato anche soltanto a Diezelè l'impresa è un po' impossibile forse sarebbe il caso di cominciare a trattare lui l'aveva messa al bando per legge la pace invece adesso lui pronuncia la parola pace e anche qui ditemi se l'avete sentito ha proposto che ci sia un incontro in Svizzera una reunion grazie Davide Andrea per la donazione una reunion con ha detto lui fate un po' voi 80 90 paesi insomma ingresso libero a tutti per discutere di un piano di pace in dieci punti e vedere se insomma in questi paesi c'è sì Svizzera a giugno esattamente vedi allora qualcuno l'ha letto non so se avevate sentito anche questa cosa anche qui datemi un feedback si incontreranno a giugno in Svizzera quindi ingresso libero eh outfit non non vincolante quindi vi potete presentare in qualunque condizio chi vuole se butta dentro per discutere questo piano di pace in dieci punti eh che sarebbero praticamente il diktat di pace che vuole l'Ucraina le condizioni per cui l'Ucraina sarebbe disposta a arrivare a delle trattative esattamente alla Domenico ti saluto ciao Domenico visto che mi chiedi di essere salutato lo sentivi sul video di Lombardi ok perfetto grazie Filippo Argentero allora sì tutti tranne la Russia come ha detto anche Lorenzo perché in realtà non è proprio vero tutti tranne la Russia la Russia in un secondo step i dieci punti di sutura esatto la pace in questi dieci punti andrà prima discussa con una serie di micro conferenze da quello che ha detto lui per discutere punto sul punto ehm e cercare di tastare il terreno di quanto poi in effetti anche tutti gli altri siano concordi con quelle che sono le condizioni della pace ucraina la Russia verrà invitata casomai in una in un secondo step in una seconda fase quindi dopo che loro avranno deciso tra di loro eh quali saranno i punti della pace e come dovrà essere quest'accordo di pace chiameranno la Russia per dire ok mo firma quindi la Russia che è l'unica delle componenti che avrebbe una voce in capitolo su queste trattative perché tu le trattative esattamente come le gioco qualcuno tu fai i conti senza loste no cioè tu le trattative de pace te le fai da solo con 90 paesi ma con il diretto interessato no ah ok dice mettete Giuseppe consiglia mettete like alla live perché siete 1800 in chat quindi dai 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 che forse usciamo dallo stato comatoso della pagina dai 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 come diceva Boris allora quindi l'unica parte che dovrebbe essere chiamata in causa per delle trattative di pace viene convocata in un secondo momento quando ormai avranno già fatto e stabilito tutto e cercheranno di piegarla a a quello che avranno stabilito ora io non so se è più ehm disagiato il pensare che solo questa cosa sia possibile o sia fattibile o se sia più sintomo di disagio chi quei pochi che hanno trattato quest'argomento che l'hanno reputata pure una cosa abbastanza fattibile cioè io ho letto di di persone siamo sempre là io leggo delle cose dalla mattina alla sera che voi umani non potete immaginare perché io sto veramente h24 davanti al computer e leggo delle cose incredibili ehm con qualcuno che ha anche pensato che questa sia una cosa cazzo eh però perché non ci avevamo pensato prima in effetti questa sì che è una grande soluzione effetti questo sì che potrebbe funzionare allora io mi auguro io ho sempre pensato alla mala fede io a questo punto mi auguro che sia mala fede deve essere totale in mala fede perché perché deve essere devo pensare devo appigliarmi alla speranza che sia meno degradante dichiarare la mala fede cioè nel senso ok sappiamo che siete in mala fede va bene quando scrivete determinate cose o fate determinati tipi di affermazioni noi lo sappiamo è meno svilente per voi ammetterlo e per noi che vi ascoltiamo anche rapportarci no a quello che dite perché se io devo pensare che questa non è mala fede ma è convinzione allora ragazzi male 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 cioè questo paese verte veramente in un disastro ma proprio a livello di logica base le trattative gli unici che reputano eh fattibile che le trattative gli accordi di pace vengano fatti senza una delle parti chiamate in causa questa roba ha dell'incredibile quando pletto pensavo l'ercio invece lo pensavamo tutti che fosse l'ercio baby baby my lady lo pensavamo tutti e invece no e invece c'è chi vabbè ne abbiamo lette di roba in questi anni che pensavano di roba che si pensava si sperava fosse l'ercio e invece drasticamente no ma pure te non puoi andarti a fare un giro in montagna al lago al mare con peppa poi lei molla un po internet no 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 ragazzi no no e vi spiego anche perché non posso mollare adesso perché nessuno dovrebbe mollare adesso a prescindere dal fatto che arrivi l'estate arrivino le belle stagioni che siamo stanchi che sa non si deve mollare adesso perché i responsabili di tutto questo hanno dei nomi e dei cognomi e a me non me sta bene che poi affinisce tutto a tarallucci e vino se dividono le poltrone e quello si prende il posticino lì e quell'altro si prende il posto da direttore nel giornale e quell'altro ancora si è fatto la sua carriera non me sta bene manco per niente quindi non mollo manco per il cazzo e perdonate il il francesismo perché io pretendo che la storia condanni queste persone perché chiaramente nessuno può condannarle in altro modo ci penserà alla storia ma pretendo anche che tutti quelli che in questi anni hanno raccontato menzogna hanno millantato hanno trasformato notizie in un senso hanno mentito spudoratamente hanno eh portato avanti delle propagande dicendo agli altri di essere pagati in rubli quando molto probabilmente erano pagati in dollari o in euro eh io pretendo che questi finiscano nel dimenticatoio totale e voglio dargli il nome e cognome quando tutto questo sarà finito quindi non mollo e non posso esattamente come tutti quanti gli altri esattamente come voi dovreste fare grazie Danì per il Danì giusto per per la donazione grazie mille no quella è Peppe che sta commentando che non sa nuotare davvero quindi armare comunque a prescindere ci poteva andare perché Peppe non sa nuotare eh lo so napoletano che non sa nuotare è proprio una è una vergogna una cosa vergognosa detto questo arriviamo adesso però alla terza notizia e questa veramente vi sfido Magoldi a dirmi che sapevate o avete letto qualcosa di questo andando per gradi di intensità sto andando da quella più diciamo commerciale a quella che proprio si sono tenuti dentro al cassetto che guai se esce fuori una cosa del genere perché questa veramente l'hanno trattata vi dico il numero due testate giornalistiche due e nemmeno testate giornalistiche diciamo di quelle più passiamo il termine per una volta mainstream anche se io un termine che odio però giusto per far capire no per collocarle in un'area eh due testate due di numero vi sfido veramente a trovarne altre e sto parlando alle sei del mattino di oggi sul tg non so di che cosa mh Paola è impegnata lasciatela in pace vabbè comunque Draghi Europa no anche quello vabbè ci divertiremo questo periodo sarà divertentissimo ma no quanti di voi sanno che il tribunale dell'AIA ha mosso il didino e gli ha detto alla Germania vieni vieni avvicinati avvicinati voi avete sentito notizia del fatto che la Germania è stata chiamata eh alla sbarra praticamente con accuse di aiutare Israele quindi concorso in genocidio nei confronti di Israele lo sapevate vi sfido dai dai ditemi di sì adesso ok quell'unica testata che ne hai parlato cioè due ne hanno parlato una di queste è proprio l'indipendente io solitamente tra l'altro io non sono usa a fare eh come posso dire la 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 retorica del Oster com'è il vino buono non lo faccio mai ma l'unico che ne ha parlato è Roberto De Maio che è il mio collaboratore alla scialuppa podcast quindi io solitamente non faccio pubblicità manco ai video miei manco figuratevi ai lavori degli altri ma siccome bisogna scardinarlo questo sistema perché mi pare che invece poi ci stanno un sacco di di persone che si autoalimentano a vicenda anche abbastanza scarse diciamocelo tra di noi è giusto rendere i meriti a quei pochi soprattutto nel nelle retropie che hanno il coraggio di mettere nero su bianco determinate cose quindi io adesso a fine live vi linkerò eh in un senso profondamente piagesco nei confronti del mio collaboratore me ne fotto di quello che possono dirmi l'articolo di Roberto De Maio perché è stato l'unico insieme forse a un altro paio di giornalisti ma forse veramente o due o tre più di due o tre non se ne è trattato a tirare fuori questa roba allora il tribunale dell'AIA aveva chiamato preso per un orecchio la Germania eh 15 giorni fa no allora 15 giorni fa erano stati chiamati 15 giorni fa ma dimmi allora senti Ario io ti voglio bene Airo 84 quindi non fraintendermi ma è stata una cosa che ha avuto un impatto per cui tutti ne parlavano è stata una cosa che avete trovato quando aprivate internet è stata una cosa che avete trovato nei tg nelle prime pagine dei giornali cioè se anche se ne avesse sentito a malapena distruscio da qualche parte il che non è impossibile ci mancherebbe vi risulta che sia stata una notizia che abbia rivestito l'interesse generale allora è stato in Nicaragua a citare la Germania all'AIA certo il tribunale dell'AIA l'ha chiamati e oggi in realtà lunedì ha cominciato diciamo la difesa e chiaramente la difesa che te può dire no no è vero noi non non sosteniamo Israele noi sosteniamo sia Israele che i palestinesi perché questa è stata la linea difensiva che la Germania sta adottando in questo momento ora se tanto metà tanto visto che il tribunale dell'AIA non ha propriamente ehm reso come posso dire escluso a priori il fatto che Israele potesse effettivamente essere condannata per genocidio come la vaga sensazione che anche eh che la clava potrebbe cadere anche sulla testa della Germania quindi la difesa comincia a dire no 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 non è vero non è vero noi sosteniamo sia Israele che i palestinesi peccato che c'è un però c'è un però tutti quanti dovrebbero sapere mi auguro spero che la Germania sia il secondo finanziatore di Israele per quanto riguarda le armi eh secondo soltanto agli Stati Uniti quindi è il più grande finanziatore di Israele europeo secondo solo ed esclusivamente agli Stati Uniti c'è un'altra cosarella che propriamente non torna e che Roberto ha scritto nero su bianco sull'articolo cioè il fatto che le spese della Germania mh dal 2022 al 2023 quindi in uno slancio eh praticamente al ridosso del del dei fatti no dei fatti di Gaza abbia aumentato almeno di dieci volte gli eh i finanziamenti in armi che faceva rispetto appunto al 2022 quindi nel 2023 stiamo parlando di una roba aspettate che adesso ve lo dico subito precisamente 326,5 milioni di euro che sono dieci volte di più rispetto a quello che la Germania dava ad Israele eh nel 2022 eh se ne è parlato poco certo che se ne è parlato poco sono tutte cose di cui si è parlato poco sono tutte cose che ripeto eh possono essere girate su canali telegram magari ma io ci sto abbastanza sopra e non mi risulta eh che qualcuno può aver sentito di strisce eccetera eccetera ma non vi sembrano cose sufficientemente sconvolgenti che avrebbero dovuto investire cioè ricoprire più di uno spazietto sentito così sfuggente nell'aere io penso proprio di sì a me sembra proprio di sì c'è un motivo per cui che lega tutto il filo di questa live quindi il fatto che alcuni tipi di contenuti che sicuramente sono come come quello che ho prodotto ieri che certo non mi aspetto che me ce danno una medaglia ecco sicuramente non me ce danno la medaglia la parlare anche della situazione a Zaporizia parlare della controoffensiva ucraina in generale parlare del della situazione a Odessa che non è poco preoccupante eh assolutamente insomma che tutte queste tematiche eh la Germania ha diciamo associata a Israele con l'accusa di genocidio eh il fatto che l'offensiva di Rafa eh avrà una data è anche imminente il fatto che Zelensky voglia trattative di pace improvvise però eh facendo delle riunioni segrete tipo i Carbonari soltanto tra de loro senza prendere in considerazione cioè sono cose che avrebbero sicuramente in questo momento dovuto ricoprire molto 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 più interesse anche perché abbiamo fatto di casi incredibili eh in trend delle merite minchiate e merite minchiate eh anche durante i periodi di guerra come le notizie delle pale o compagnia cantanti che erano fake news ma che incidevano letteralmente zero per quanto riguarda poi anche i risvolti che ci coinvolgono tutti chiaramente no Massimo Diglio benvenuto con fratello di Pabble e benvenuto nel canale allora c'è questo motivo certo che c'è e come titola la live perché le europee hanno fatto un miracolo San Gennà sono sparite le guerre sono sparite le discussioni e perché sono sparite le guerre sono sparite le discussioni e quando si parla di guerra se ne parla cinque minuti brucia pelo e basta e poi tutti zitti stiamo sezitti perché come si fa a parlare di guerra in questo momento in questo momento non si può perché quando parliamo di guerra e qui devo fare la premessa inutile che mi venite a dire come mi siete venuti a dire qualcuno nel real di oggi che io faccio del qualunquismo mettendo tutti i partiti politici sullo stesso piano perché c'è sempre qualcuno che ha il suo partito che no in realtà il mio partito ha fatto questo il mio partito ha fatto quello non me lo venite a raccontare non me lo venite a raccontare per il semplice fatto che in questi due scenari di guerra medio orientale ucraino ci saranno stati partiti che appoggiavano l'uno che appoggiavano l'altro e c'è stato qualcuno che ha appoggiato tutte e due e vi metto a tacere immediatamente quando vi vorrei ricordare che quando si è stabilito se dovevamo mandare le nostre italiche navi nel mar rosso il voto è passato all'unanimità quindi non mi venite a raccontare le minchiate che esistono partiti che quando poi vengono chiamati a dover decidere riescono a scegliere cose differenti perché quando devono decidere firmano tutti insieme appassionatamente lo sapete che significa all'unanimità quando abbiamo mandato la duilio il fasan nel mar rosso a difendere i nostri interessi lo sapete che vuol dire all'unanimità l'unanimità significa tutti tutti hanno votato che la connessione è sempre quella che era il momento caldo dicevo tutti nessuno escluso hanno votato a favore tutti quanti è inutile che mi venite a dire ma il mio di partito ha detto di sì però poi dopo si è riservato il diritto di dissociarsi quando la missione sarebbe passata da difensiva offensiva me ne frega cazzi nel frattempo hanno fermato tutti e allora come si può parlare di guerre in questo momento se poi per parlare di guerra è uno deve chiamare alla richiamare alla memoria questo evento deve richiamare alla memoria quando alle risoluzioni sul cessato del fuoco ci siamo astenuti ad esempio deve richiamare alla memoria quando prendevamo i baci in fronte da Biden deve richiamare alla memoria quando ci facevamo le foto con Netanyahu perché volevamo fare l'hub energetica Netanyahu te prego d'accer gas mentre promulgavamo piani Mattei e cose del genere bisognerebbe ricordarsi quindi quando fa come si fa a parlare di politica se dobbiamo richiamare alla memoria tutti questi elementi dobbiamo richiamare alla memoria il con contro la russia fino all'ultimo ucraino i piani decennali per aiuti all'ucraina indipendentemente che poi tra l'altro non sono vincolanti perché loro le cose fanno per pia per culo voi ma loro so furbi mica se mica se invorticano ma che avevano come unico obiettivo quello di mettere il piedino nelle ricostruzioni che ste ricostruzioni stanno a diventare interesse di un sacco di gente ma proprio tanta tanta che voi non ve lo potete neanche immaginare grazie Pasqua della donazione quindi come si fa a parlare de guerre quando noi dovremmo richiamare alla memoria tutta questa roba qua tutta questa roba quindi che abbiamo stretto mani abbiamo portato avanti retoriche uno una uno l'altra qualcuno tutte e due addirittura bisognerebbe richiamare alla memoria quando manifestazione ve la ricorderei fiaccolata bipartisan per navalni ce ne fosse mancato uno e dico uno solo quindi quando poi chiamati a raccolta in cui devono dimostrare di essere l'uno diverso dall'altro o almeno dalla parte dei popoli invece se siedono e se spartiscono le torte come gli pare a loro come si fa a parlare de guerre dice giuseppe il mutuo della casa ai parioli è costoso e sono d'accordo lì non ci stanno nemmeno soltanto le case ai parioli lì è tutto un circuito no perché ci sono le case ai parioli dei singoli certo che hanno un costo poi ci sono i posti i posti da portaborse i posti d'assessore poi ci stanno i giornali che magari uno ambisce a diventare anche solo articolista e magari lo diventa se riesce a battere determinate cose piuttosto che altre chi vuole diventare direttore è una grande piramide dell'opportunità che rende quindi tutti alla fine tutti d'amore e d'accordo su determinate cose che cos'è torpignattara cavallo pazzo no se mi se mi vuoi diciamo per culare ti dico proprio che sto de garbatella proprio quindi no torpignattara ce tengo perché se uno deve essere deve essere buzzurro come io mi vanto di essere quindi senza questi discorsini incravattati da fotti popolo preferisco essere centomila volte di borgata e ne sono proprio molto molto contenta di esserlo quindi mi raccomando no torpignattara garbatella proprio garbatella che è pure è ancora più sanguigna come cosa se ci pensi quindi diciamo che è impossibile parlare di questi argomenti in questo momento perché è evidente che poi parlare di questi argomenti dovrebbe far uscire tutti questi discorsi qua e non solo questi e non solo questi quindi non dovete farvi troppo stupore se determinati contenuti non li vedete se determinate cose in giro non ci stanno non pensiate che si sono placate le acque le acque non si placano mai hanno talmente tanto innescato polveriere in giro per il mondo che queste polveriere non si non si placano l'unica cosa che vorrei dirvi però è questo e questo lo penso per davvero io ripeto non mi sono mai lamentata degli shadow ban perché ho sempre pensato che un po' fosse anche colpa mia no quindi anche quando so che certi sistemi vanno in un determinato modo ho sempre pensato che l'intelligenza già dai tempi in ci volevi niente fosse quella di aggirarle determinate frasi parole o simboli che potevano farmi incappare in quindi sono assolutamente d'accordo cioè consapevole che non c'è niente che possa frenare non lo fermi il vento con le mani ecco diciamolo così i metodi si trovano quando si tratta di questi silenzi imposti e molto spesso noi assistiamo a queste fasi di silenzio imposte che non riguardano solo me adesso ci sono capitata io di mezzo ma durante questa settimana veramente tutti mi sono confrontata con decine di creatori di contenuti che hanno lo stesso identico problema mio quindi un motivo ci sarà c'è il modo di non fermare il vento con le mani e il modo in realtà siete voi questo non significa che vi sto dicendo andate a condividere video è una cosa che odio assolutamente no però vi chiedo nel vostro privato informatevi cioè se vedete che ci sono delle fasi di silenzio strane e che aprite le prime pagine dei quotidiani e ci trovate soltanto lo scontro con la shlein o nelle trasmissioni televisive cominciano a fare il pellegrinaggio dei politici come se il resto del mondo e la politica estera che ci aveva investito fino all'altro ieri sia improvvisamente sparita siete voi che potete fare la differenza quindi mettetevi a guardare la roba andate a cercare guardate soprattutto le testate estere perché tutto se può dire io ho visto pure un sacco di gente che è venuta a contestarmi le fonti ha mai preso quella testata che però è filo quello filo quell'altro ma comunque una testata che ne parla cosa che qua da noi non succede quindi sono comunque apparentemente tutti molto più liberi di noi comprese le testate israeliane per dirne un cioè pensate l'assurdità no quello va in giro a ehm praticamente spianare popoli hanno una stampa più libera della no cioè l'assurdo praticamente quindi voi se ci riuscite tenetevi informati che non significa stare soltanto su questo canale assolutamente no ma stare in generale sul pezzo di andate a cercare quando tornate dalle passeggiate dalle sacrosante passeggiate mettetevi su internet guardate le notizie andate a guardare le testate straniere fate questa roba qua perché è l'unico modo in cui questi silenzi imposti si possono in qualche modo contrastare altrimenti se ci facciamo andare bene l'imposizione è finita quindi mi raccomando siete importantissimi non solo per questa pagina ma anche per tutti gli obiettivi che abbiamo comunemente tutti in generale e primo tra tutti quelli di non ritrovarci invischiati in questi deliri politici allora Carlo grazie della donazione Massimo grazie della donazione siete in 1952 io ammetto prima non so non ho visto ehm se c'erano altri picchi ed è un'ora è quattro che parlo madonna ma che ve frega da dove viene o di dov'è Pablo finalmente abbiamo qualcuno che fa fare informazione e fate riscrizione ma lasciali perdere lasciali perdere perché non capiscono innanzitutto che il dialetto è una cosa molto importante dialetto è ancora più antico dell'italiano cari i miei ignorantoni e secondo poi che non è detto che siccome parlo in dialetto io allora non abbia una formazione vorrei ricordare che io sono padrona di ben due lauree più un'abilitazione all'insegnamento che ho preso così quando mi andava di perdere tempo durante durante l'epoca pandemica mentre eravamo in lockdown io ho dato altri esami ci sono state altre figure all'interno di quelle cose che si chiamano università quindi c'è stata una commissione che ha stabilito che io abbia le facoltà di poter parlare di queste cose vi assicuro che so parlare in romanaccio tanto quanto so parlare in modo perfettamente accademico e chi si attacca al dialetto per venirmi contro significa che non trova poi effettivamente null'altro e quindi li lasciamo tranquillamente a loro stessi ora detto ciò ma non li cagare no vabbè era un commento che ho letto tra i tanti perché vedo che state scrivendo in tantissime io praticamente non vi ho letti nessuno in un'ora e cinque minuti che laureai io sono laureata in storia e archeologia specificatamente in archeologia paleocristiana e con abilitazione all'insegnamento per tutto ciò che confa le materie storiche per la scuola primaria scuola secondaria quindi è per questo anche che molti della dei video che faccio usano tra l'altro anche dei metodi molto semplici perché io non ho mai avuto peppe si dice peppe chi si attacca al dialetto è meglio che si attacca alle sono d'accordo dicevo uno degli scopi dei video che faccio è proprio quello di essere un primo punto di partenza no io mi approccio esattamente come mi approccierei in senso educativo no magari con un ragazzo il discorso è che io non ho mai preteso di avere verità assolute di essere più accademica più formità degli altri le mie fonti i miei dati assolutamente no il mio obiettivo è quello di spiegare alla gente la base in modo tale che la gente da quella base possa costruire percorsi propri approfondimenti propri io posso consigliare libri da leggere io posso spiegare la bc di alcune questioni nessuno ha mai avuto la pretesa di essere null'altro che questo e mi fa un po sorridere che invece gente senza questi titoli si assuma si arroghi il diritto di fare l'esatto processo contrario questo mi fa veramente ridere perché veramente tutti tutti i dottoroni su su youtube tutta gente che dottore non è nemmeno per l'anticamera del cervello ricordamose per poro fabbri chiusa questa piccolissima inspiegabile polemica che non so perché mi è uscita adesso all'ultimo momento ma perché evidentemente ce l'avevo dentro la devo le due capacità didattiche sono solide e belle impostate fai ascoltare con passione dai ragazzi perché l'obiettivo è proprio quello di avvicinare i ragazzi l'obiettivo è avvicinare tutti quei giovani che magari perché altrimenti buttati in contesti così tanto complessi si sentirebbero esclusi da un contesto di comitiva dove si parla sostanzialmente dei cazzate magari che si possano avvicinare ad un mondo quindi dare gli strumenti soprattutto ai ragazzi e non è un caso infatti che mi è capitato in questi anni ed è stato bellissimo di aiutare i ragazzi ne so scrivere le tesine di terza media ed è ad esempio bellissimo perché già in così tenera età ce n'è stata una in particolare che ha portato anche lei una tesina sulla propaganda e quindi ha citato voleva parlare di Goebbels che è un argomento abbastanza complesso per un ragazzo di terza media grazie Michela per la donazione e tra l'altro un altro che invece ha parlato delle olimpiadi delle olimpiadi tedesche quindi è stato veramente veramente bello poter mettere mano a queste tesine e aiutarli in qualche modo anche a reperire le fonti questo è niente di più niente di meno di quello che voglio fare oltre che cercare di togliere dalla scatola nera in cui vengono messe certe informazioni cercare di divulgarle il più possibile tutto qua ora secondo Dante Ricchieri il dialetto è la memoria storica di un popolo infatti è lo è Paola no non ho ancora fatto Andrea non l'ho ancora fatto in questo momento mi interessa molto meno di zero ci sono delle cose molto più importanti infatti se avessi voluto farlo l'avrei fatto invece no sto qui a parlare con voi di tutt'altro non mi interessa assolutamente detto questo tornerei a scuola volentieri solo per sentire l'ora di roba archeologica siamo arrivati al punto roba archeologica finalmente questa settimana torna domenica giurin giurello vi sveglierete e troverete intorno alle dieci e mezza perché sono stata anche rimproverata per non rispettare gli appuntamenti troverete intorno alle dieci e mezza il video di roba archeologica che come ho già anticipato più e più volte in questa settimana parlerà di propaganda sarà un filone di due video che parleranno di propaganda e li troverei tutti i metodi quindi per riconoscere un manipolatore anche quanto la vita privata incida sul manipolatore quindi parleremo chiaramente appunto di Goebbels il primo video il secondo video sarà su Bernays e il ricettario della propaganda un video che avevo già fatto un po' di tempo fa ma lo rifacciamo con tutti gli strumenti nuovi le capacità tecniche nuove eccetera quindi domenica voi troverete il vostro video detto questo dopo un'ora e dieci minuti io penso che noi ci possiamo congedare vediamo un attimino domani che cosa succede domani è giovedì quindi ci sarà la live della scialuppa come sempre e ricordatevi di venire ore ventuno nel caso ci fossero poi i cambi di programma verrete comunque largamente ehm avvisati un video con ospite di Battista Takaia sì ci stiamo pensando nel senso ci siamo già messi in contatto bisogna soltanto capire come e quando ma avverrà eh esattamente come con tanti altri che purtroppo sono pieni di impegni anche loro ed è difficile concentrarsi tutti quanti insieme e detto ciò io vi auguro una buonissima serata quindi mi raccomando andate a cercare le notizie andate a cercare le notizie andate a cercare le notizie ciao bambini ci vediamo domani ciao 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 ciao